Eccarisi per l'arrizzo calcio femminile, le ragazze amaranto rimediano una pesante sconfitta a Verona in 20 minuti, le Venete hanno sistemato di fatto la pratica, la formazione scaligera è passata in vantaggio all'ottavo, la prima azione è utile, l'Ellas dunque trova lo spiraglio dagli sviluppi di un calcio d'angolo, una conclusione perfetta di sinistra ed incrociare trova la traversa interna con palla in gol, il tiro è della Peretti, l'Ellas in vantaggio per 1-0, ancora il Verona pericoloso al 14esimo sempre sui sviluppi di un angolo, stavolta Peretti spira di testa in area Meneghini e trova l'impatto giusto e segna 2-0, partita di fatto conclusa, l'arrizzo non c'è al 22esimo, Rognoni si invola sulla sinistra eludendo la guardia di Zito, serve a Peretti ancora una palla utile per segnare facile facile, 3-0. Il Verona a campo aperto al 27esimo, Bison serpentina in area della giovane di casa, fermata tu per tu con il portiere dall'intervento di Zito, minuto 33, disimpegno offensivo, errato di Begroschi attiva erronamente Anghileri, transizione offensiva veloce per le padroni di casa, in contropiede solo Zito e Nardi in uscita evitano il gol, nel primo tempo è vero ancora l'Amaranto avere grandi difficoltà. Nella ripresa l'arrizzo prova a reagire in apertura al 46esimo con questa conclusione di Licco ma il tiro finisce a lato, pressione aumenta e stavolta è Zito dalla distanza che tenta la via del gol al 49esimo. Ancora Verona pericoloso al 55esimo, stavolta il cross di Bison dalla destra viene rispinto contro da Nardi e per Rognoni è un tapinde fin troppo facile, 4-0. Partita di fatto senza storia.